E' il giorno della ripartenza per i 5 asili comunali più il micronido della città di Teramo. Quest'anno, come è noto, cambia l'organizzazione in aderenza alle linee guida nazionali anti-Covid. Lo abbiamo fatto in sicurezza, con il grande supporto degli uffici, delle educatrici tutte, dando una risposta importante, grazie soprattutto al lavoro dell'assessore Core, dell'ufficio pubblico istruzione del comune di Teramo, a 190 bambini, dando una risposta che è distribuita su tutti i nidi che sono pubblici e resteranno, sebbene a gestione indiretta, anche in futuro pubblici. Ci sono state perplessità particolari da parte delle famiglie? No, devo dire che dal confronto che ho avuto con tutte le educatrici la ripartenza è stata perfetta, insomma, in anticipo rispetto al termine previsto per l'apertura delle scuole e questo era un obiettivo che c'eravamo posti e che abbiamo colto. Ovviamente adesso la gestione dovrà essere in linea con quelle che sono le prescrizioni. Tecnicamente qual è stata l'organizzazione interna agli asili? Abbiamo chiesto un protocollo di sicurezza al nostro responsabile di modo che potesse avvenire tutto quanto in sicurezza, sia per gli operatori sia nella gestione dei bambini, venissero distanziati, venissero organizzate le attività negli spazi riorganizzati delle nostre strutture per far sì che tutta la normativa sia per il personale che per i fruitori e quindi per i nostri bambini e le nostre bambine fossero rispettati e quindi far sì che potessimo ridurre al minimo ogni eventuale fattore di rischio. Gli spazi esistenti sono bastati? Per quanto riguarda il servizio dei nidi, quindi lo 03, sono assolutamente stati sufficienti per poter accogliere i bambini e del resto anche sul tema scuola abbiamo visto nei giorni passati come come amministrazione siamo mossi in maniera estremamente celere e già in queste ore sono terminati tutti quanti i lavori presenti sul territorio comunale. Noi eravamo pronti per ripartire anche con la scuola il 14, abbiamo chiesto di spostarla in avanti e per evitare uno sperpero di denaro pubblico. Grazie.